Buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci, io sono Massimo Di Fazio, l'organizzatore insieme a tutti gli amici del paese, abbiamo organizzato la terza edizione di questa splendida manifestazione per i nostri amici tamali. Quest'anno abbiamo cercato di riprodurre il più possibile l'unico, avvicinarsi con le reposizioni in linea a un paese uguale, abbiamo lavorato molto, stamattina sono partiti circa un'ottantina di cavalli, di sabato mattina non sono pochi, perché visto che comunque la gente finirà di lavorare intorno a mezzogiorno, domani presumeremo un numero sicuramente quasi il doppio dei cavalli che sono partiti stamattina. Adesso vedo che ci sono molti bambini già presenti, abbiamo lavorato tanto anche per loro, abbiamo contratto un vero indiano d'America che si chiama Tataoma, faranno mazzine per loro, abbiamo lavorato per le didattiche, ci sono i poni che portano in giro i bambini, cerchiamo di fargli vivere il vecchio paese del West e anche a loro in modo che si possano rendere conto come erano i tempi passati. A questo punto vi posso dire che il villaggio indiano è aperto a tutti loro gratuitamente, possono stare tutto il giorno con gli animatori a giocare, a fare la caccia al tesoro e per loro penso che ce ne sia già sufficiente, abbiamo montato un contorno meccanico e quindi si invertiranno molto. Parlando per i grandi stasera vi voglio ricordare che ci sarà Cecilia Rodriguez come ospite d'onore, abbiamo un'associazione western, la IEV si chiama, farà spettacolo con i vittelli e poi al super finale sarà un attacco al carro, un vero attacco con i banditi, abbiamo i fratelli Balbis che sono i banditi che rincorreranno questo carro e poi uscirà lo sceriffo a fermare questi banditi. Grazie. Grazie.